Mini canalizzazione. Pisa, 6 maggio 2017. Saluti miei cari, io sono Crayon del servizio magnetico. Cari miei, ci sono sempre quelli che si chiedono cosa stia accadendo qui, e lo diciamo tutte le volte che veniamo, vi invitiamo a rilassarvi e a sospendere il credo che vi è stato insegnato. Voglio chiedervi una cosa. Credete davvero che il creatore di questo universo, che conosce il vostro nome, sia all'oscuro? O pensate che questa meravigliosa energia creativa sappia cosa sta accadendo qui? I maestri del pianeta hanno detto tutti la stessa cosa, e cioè che dentro l'essere umano c'era l'immagine di Dio, potete farci quello che volete e credere quello che volete ma vorrei che sentiate cosa significa. Se avete l'immagine di Dio dentro di voi, significa che voi siete eterni e questa eternità è bellissima, non porta punizioni o ricompense, semplicemente ritorna a quello che è Dio. In questa stanza ci sono molti strati di credenze, sono appropriate e si adattano a coloro che hanno la libera scelta. Cari miei, ci sarà colui che sarà guarito, oggi, e poi seduto accanto a lui ci sarà quello che si lamenta, la ragione di questo è che voi siete tutti su un unico percorso, ognuno di voi. Alcuni di voi sono così pronti per questa energia, la sentite arrivare ed è per questo motivo che siete qui seduti sulla sedia, e cosa c'è dopo? Sento qualcosa accadere. Lasciamo che in questa stanza si instauri la sacralità, centinaia di anime antiche proprio qui, cosa significa questo per il pianeta? Vi dirò di più questa sera ma per adesso, significa una raccolta di esseri divini sulle sedie. Potreste chiedervelo, e forse non è quello che vi è stato insegnato ma non potete sentirlo. Noi abbiamo parlato di questo prima, abbiamo parlato dell'Italia e lo faremo di nuovo, forse persino adesso ma prima di farlo, voglio invitare l'entourage in questo luogo. L'entourage è costituito da tutte le vostre guide e i vostri angeli, chiamateli come volete, c'è la divinità del pianeta che si riunisce attorno a voi, anche gli elementali di Gaia sono qui, sulle sedie, sono qui, la vostra partnership con la natura è qui. Siamo d'accordo di fare qualcosa. Esseri umani sto per chiedervi di nuovo di rompere la vostra scatola di affanni e preoccupazioni per sette o otto minuti in tutto. Cosa avete da perdere? Avete forse paura che Dio possa amarvi troppo se lo fate? Sentite che è inappropriato per voi aprirvi? Siete stati in una scatola, e alcuni di voi, per troppo tempo, e qualcuno di voi sta dicendo, bene, andrò solo fin lì. Di cosa avete veramente paura? La sola cosa che verrà offerta qui è un messaggio di compassione e amore, non ci sono altre energie, e vi invitiamo a sentirlo adesso, è un luogo divino questo o no? Voglio rivolgermi alle anime antiche che sono state nell'esoterismo per anni, e a quelle anime antiche che possono percepire le cose. Lo sentite qui? Non si tratta dell'uomo sulla sedia o del luogo da dove proviene, quest'uomo si è fatto da parte, questo è un messaggio che viene per voi, dall'altro lato del velo, potete crederci? È appropriato? Questa è un'area sacra e allora daremo informazioni sacre. Cari miei, l'abbiamo già detto, l'Italia è speciale, attraverso le ere, il centro del credo spirituale per miliardi di persone è venuto da qui, perché qui? Ci avete mai pensato? È una coincidenza? Poteva venire da qualsiasi altro luogo, ha qualcosa a che fare con la cultura? Ha tutto a che fare con gli italiani, ha sempre a che fare con gli italiani. Non è interessante che così tante informazioni spirituali sono arrivate in questa lingua? È possibile o è un errore? C'è qualcosa qui, attraverso questa terra dal fondo del tempo, che parla di qualcosa di speciale? E la risposta è sì lo è, sì, e lo è ancora. Il mio partner ha parlato del leader chiamato Papa e dei cambiamenti che sono avvenuti, mentre lui lentamente guida la sua organizzazione verso una zona di maggiore compassione, è uno pratico, uno che parla di come le persone possano amarsi l'un l'altro e di come la terra possa riunirsi come non ha mai fatto prima, di come possa esserci un accordo per la pace e di come questo parta dal cuore. Questo è un messaggio diverso che avete ascoltato da quello che avete ascoltato nel protocollo, sta cambiando. Adesso ci rivolgiamo agli esoterici e gli esoterici sono diversi a partire dal cambiamento. Un intero gruppo di voi che è stato qui per un tempo molto lungo, e intendo acascicamente, sta iniziando ad avere un impatto, spesso ciò che accade in Italia ha un impatto spirituale sul mondo, lo avevate mai capito? L'avete visto per centinaia di anni, perché dovrebbe essere diverso adesso? Non si tratta di dare inizio ad un'altra organizzazione, cari miei, si tratta di mantenere l'energia quantica per tutte le anime antiche della Terra, l'Italia può essere il percorso più veloce per il resto del pianeta, quasi come un acceleratore quantico, avete pensato a questo? Perché dovrebbe cambiare adesso? È sempre stato così. E allora cos'è che volete fare? Cos'è che questa cultura può fare? Voglio allestire il palco e aprire la strada per qualcosa che accadrà da qui a un anno, perché il mio partner mi riporterà qui in Italia, e voglio iniziarla adesso, e gli daremo un nome, sarà chiamato. La fine delle sofferenze e l'inizio dell'autostima. Questo è quello che gli italiani possono fare, uscire fuori dagli insegnamenti, forse, che dicevano che la spiritualità deve associarsi con la sofferenza, a braccetto e mano nella mano con la sofferenza, hai dovuto soffrire un po', i più grandi santi che avete avuto hanno sofferto un po'. Cari miei non è un messaggio sbagliato è semplicemente un messaggio della vecchia energia, è qualcosa che adesso può essere riscritto e riformulato. Come vi sentite riguardo a ciò? Mentre guardate a voi stessi negli occhi di Dio? Lasciatemi dire questo. I vostri occhi sono abbassati verso il terreno? Siete in una posizione che è inferiore rispetto a Dio? Vorrei che pregaste con la faccia rivolta al cielo perché è ciò che siete. Siete parte di questo piano e lo siete sempre stati e adesso è tempo di sollevare lo sguardo al cielo e parlare, di tutto quello che vi riguarda, a ciò che è onnipotente. Avete superato un punto di svolta molto importante che ha letteralmente cambiato l'energia della vostra relazione con Dio, qualcuno di voi dice. Non posso farlo, non posso proprio farlo, non sono veramente degno di farlo. Mi è stato detto chi sono, sento di aver sofferto nelle vite passate che ho avuto, non posso improvvisamente svegliarmi e cambiare tutto questo. E se vi dicessi che c'è un aiuto? E se vi dicessi che questo aiuto viene dalla sorgente creativa? Sentite la dignità di farlo, e la prossima volta che pregate iniziate in questo modo. Caro Spirito io sono degno di parlare a ciò che c'è dentro di me, chiamato l'immagine di Dio, Dio cosa sai che io dovrei sapere? Che ne dite di questo? Vorrei che voi aveste un riconoscimento, finalmente di chi potete essere. Cari miei, voi avete studiato le scritture e sapete che ci sono ere e lassi di tempo o distribuzioni di spiritualità. C'è stata la dispensazione della legge quando gli esseri umani avevano una consapevolezza inferiore. C'è stata la dispensazione dell'amore, e il maestro dell'amore vi ha dato queste cose, e adesso cari miei, a partire dal 2012 c'è la dispensazione della dignità, in cui l'umanità sta iniziando a risvegliarsi e a rendersi conto che la scatola di spiritualità in cui si trova si sta disfacendo, è abilitante, ti metti in grado di fare qualcosa, e crea un essere umano che può fare di più. Ci sono alcuni in questo gruppo, adesso che possono essere venuti per una guarigione, lo sentite? Vorrei che lasciaste tutte queste cose qui in questa stanza, tutto ciò che è inappropriato per la vostra magnificenza, com'è la vostra scatola delle preoccupazioni? E voi dite, Crayon, cos'è una scatola delle preoccupazioni? È la scatola in cui mettete tutto quello per cui vi date pena, e poi voi prendete questa scatola che allora è sempre con voi così che voi possiate decidere quando preoccuparvi per qualcosa, qualche volta è quando andate a dormire, qualche volta quando guidate l'auto, qualche volta è proprio adesso. E se capovolgeste la scatola sotto sopra lasciando tutto sul pavimento? Ma Crayon questo non è molto pratico perché quello che mi preoccupa sarebbe sempre lì. Bene, gli elementi, ciò che ti preoccupa, possono anche rimanere lì ma la vostra reazione ad essi può essere cancellata e riempita invece con comprensione, compassione e consapevolezza che Dio è con me, tutte le cose sono appropriate, ho un partner nelle stelle e io lascerò questo posto diverso da come sono arrivato. Che messaggio! Le cose che vi sto dicendo sono accurate e vere, c'è un cambiamento su questo pianeta cari italiani, e voi siete veramente parte di esso, la fine delle sofferenze, e le anime antiche sono quelle che lo faranno. Ho dato un messaggio come questo prima e sto per darlo di nuovo perché voi avete bisogno di ascoltarlo, è per adesso, è abbastanza su cui pensare per adesso. Se aveste avuto l'udito per tutto ciò che è esoterico voi avreste sentito un applauso, un enorme gruppo dall'altra parte del velo è così felice che state ascoltando questo messaggio. Qualcuno deve farlo e sono le anime antiche, vi dirò di più in proposito più tardi. Per adesso, è così iere.